Cosa si nasconde all'interno del cratere Senga? E' una domanda che i cittadini dell'area nord di Napoli si pongono da anni. Da quando è stato appurato che il cratere, faglia terrestre, larga circa un metro e profondo a un centinaio, sita in zona pianura, è stato per lungo tempo uno sversatoio di rifiuti, tra il lecito e l'illecito. Se infatti da una parte c'è chi dice che la cava, utilizzata come discarica comunale dopo essere stata chiusa e stata bonificata, dall'altra c'è chi sostiene che pianura è stata per molti anni la discarica degli scarti industriali del nord Italia e che per tutto questo tempo la faglia terrestre ha anghiottito rifiuti pericolosi d'ogni sorta. Fatto ancora più drammatico, al di sotto del cratere scorrerebbe una falda acquifera che arriva al litorale di Pozzuoli e che sarebbe stata contaminata dai liquami, in quanto la discarica sarebbe priva di qualsivoglia impermeabilizzazione. Questa mattina un gruppo di attivisti del Movimento 5 Stelle e di comuni cittadini ha accompagnato sul posto l'euro parlamentare Isabella Di Nolfi, membro della Commissione Cultura e Istruzione, e la senatrice Paola Nugnes, membro della Commissione Permanente su Territorio, Ambiente e Beni Ambientali, per un sopralluogo in vista di un'imminente interrogazione parlamentare. Oltre al grave disastro ambientale, naturalmente lo sversamento di veleni all'interno del cratere ha portato con sé conseguenze drammatiche per la popolazione di queste zone, che via via con gli anni ha incominciato ad essere colpite in percentuali sempre più elevate da gravi patologie. E se l'attenzione sulla questione pare essersi affievolita dal 2010, anno della grande emergenza rifiuti, ad oggi, c'è chi continua la sua battaglia per conoscere la verità, che oggi vuol dire avere delle risposte in merito a cosa giace al di sotto del manto erboso che inverdisce quella pianura che un tempo era un cratere di circa 28 metri di altezza e 280 di diametro. L'aspetto che rende la vicenda ancora più preoccupante è che i cittadini continuano a documentare con appostamenti, foto e filmati gli sversamenti illeciti nell'area. Addirittura pare che i camion che trasportano i rifiuti illeciti si servano di strade alternative per non dare nell'occhio. E sono sempre cittadini ad evidenziare la presenza di tubi che emanerebbero gas tossici provenienti dal sottosuolo. Tutto ciò era chiuso in un dossier che questa mattina è stato consegnato nelle mani della senatrice Paola Nunez. Grazie. 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 Grazie.